Enrico Lannaro, noi ci siamo presi la responsabilità di dire che ormai tu sei il candidato sindaco del centro-sinistra. Lo diciamo noi, non lo diremo. Una grande responsabilità. Una grande responsabilità, lo direi tu. Però, insomma, la prima scatola diciamo che è andata, 231 i voti di oddati, 443 i tuoi voti. Insomma, l'hai quasi doppiato. I dati che ho io, vicino al 40% di quest'urna. Intorno al 40% di quest'urna. Il 40% credo che sia un dato importante per la prima... Su quattro candidati è un bel dato. Sicuramente. Che emozione stai provando? È partito un applauso liberatorio a un certo punto sui numeri, no? Qual è l'emozione che hai provato in quel momento? Abbiamo sentito anche i voti di... La stessa da adesso. L'applauso e la presenza ancora di tutte queste persone è bellissimo. Oggi è stato un grande giorno di festa. Ho avuto la fortuna di avere i bambini qua con me a tutto il giorno. e senza attenzioni, senza nulla, è stato veramente un grande giorno di festa. L'applauso benvenga. L'applauso adesso, penso che erano le schede di Ciotti. Sì, ma non ancora devono finire. Poi magari ci... Però è già un buon dato. 232. Quindi ha superato i dati. Stanno lì, pari pari. Ok. Lanaro, ma lo sai che poi domani mattina bisogna correre? Domani mattina io mi occupo del programma. Poi ci sarà chi andrà a raccogliere voti, lavorerà e via di seguito. Io adesso finalmente mi occupo di quello che mi piacerà occuparmi, di fare le cose. E come riuscirai a coniugare il lavoro con la parte politica? Famiglia, no? Perché tu hai una famiglia meravigliosa che sono stati qui con noi. Che sei sempre saprificata. Che di fronte a noi, che è fantastica. Tua moglie è sempre presente. Come riuscirai a coniugare tutte queste cose? Beh, la famiglia ormai si è abituata a dire di Colanaro, almeno loro. Il lavoro, nell'ultimo anno avevo già delegato a chi di dovere le mie attività, che poi tutti conoscono Vettelan, ma mi occupo anche d'altro. Io ho dei ruoli in Vettelan, in altre situazioni, che riesco a conciliare sicuramente con questo lavoro. Allora, dovrai raccogliere tutto il centro-sinistra. E non solo. E non solo, certo. Tu sei il civico, quindi sicuramente raccoglierai anche altro. I battipaiesi. Però riuscirai? Quanto siamo? Ha superato? Ecco, Ciotti ha superato Odati. Forse le previsioni vedevano un po' Odati più avanti rispetto a Ciotti, ma invece evidentemente... È un voto molto più popolare, forse. Sì, perché i colonnelli, quindi anche se sono scesi in piazza a sostegno di Odati, evidentemente non sono stati abbastanza convincenti. Non va tradotto in questi termini, no. È un voto più popolare, non partitico. Già il fatto che partecipavano comunque delle forme civiche, Enrico Lanaro rappresenta in questa campagna elettorale, in questa tornata elettorale a Battipaglia, dopo tanti anni, il civico puro. Questo dato va interpretato dove è Battipaglia e i battipagliesi che si sono mossi. Questi numeri non si muovono con i partiti a Battipaglia. Adesso li chiamerai tutti a raccolta? Odati, Galdi, Vitolo, Ciotti? No, li chiamerò raccolta, ci metteremo insieme e insieme sicuramente creeremo questa coalizione che porterà avanti il progetto e cercheremo di raccogliere anche altro. Enrico, tra di loro ci sarà un assessore, un vicesindaco? No, tra di loro proporranno dei curriculum, mi auguro, ma non credo che... Vediamo. Non credo. Per quello che mi serve non è sicuro. Ha le idee chiarissime. Porteranno curriculum validi, sicuramente. Adesso andrei a scontrarti con dei colossi come Motta, soprattutto Motta, insomma sicuramente anche Inverso, Tozzi, insomma, uno dei nomi importanti. Allora... Vai, spara. Tanto ci siamo abituati. Non andrò, mi andrò a confrontare con gli altri, mi andrò a confrontare sicuramente con una persona coerente che è Gerardo Motta che non ha partecipato e neanche è interferito in questa competizione rispetto ad altri che per voci di corridoio e poi vanno analizzate queste cose non hanno avuto un codice deontologico politico chiaro e definito. Quindi tu rimarrai quello che sei con la tua... A noi ci piace definirti anche ingenuità politica, no? Sicuramente. Perché comunque guardi, come l'ho detto prima, è un po' pascoliana, guardi le cose con gli occhi di un bambino, questa è la sensazione che ci... No, no, deve essere così. La festa di ieri è la dimostrazione di questa, coloro i quali mi rappresentano è questo, non viene captato da chi ha fatto politica e cercano di vestirmi sempre con la vecchia politica e via di seguito, spetta poi a coloro i quali voteranno da fare le proprie scelte. Le mie tre liste, solo le mie tre liste porteranno in campo 72 nuove facce che non hanno mai avuto candidature, incarichi e null'altro nella politica. Benissimo, questo ce lo ricorderemo e siamo sicuri. Questo sarà la settimana prossima mentre io mi occuperò di programma, c'è chi si occuperà di quello. Noi mettiamo in campo minimo le mie tre liste 72 nuove facce, quindi l'elettorato può scegliere. Poi si apre un mondo di partiti, di altre forme politiche che si aggiungeranno a noi. Aspetta ai battipagliesi scegliere. Io avrò dei veti, io metterò dei veti, sicuramente, ma dei veti che devono rispondere a un codice deontologico e di legislazione. Non posso fare altro. Quindi nessuno che ha già fatto politica? Nelle mie tre liste no, mai. Perfetto, benissimo. Neanche un incarico. Allora noi ringraziamo Enrico Lanora anche perché lo aspetta.